Ed ecco il magnifico campo da tennis con annessa pista di pattinaggio. Anzi, specifichiamo pista di pattinaggio con al centro campo da tennis. Un'opera pubblica, anzi sono due opere pubbliche, la pista di pattinaggio e il campo da tennis. A servizio della cittadinanza, dello sport e dei giovani, non solo dei giovani. Lo sport viene praticato dai giovani, dalle persone madure, dalle persone anzioni. Guardate che bel panorama. Oggi 9 dicembre 2023, 1 luglio da marzo. In zona qui all'esterno ho lasciato la bici qui. Ecco marzo d'oggi, un buon passeggiata qui.